Il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della Tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio è non vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi, la nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio, per Santa Barbara Martire così sia. Tutte nel nome del Signore, e l'ha fatto c'è la terra. Vi benedica Dio ogni potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.